La materialità, la fisicità del progetto, l'immaterialità del pensiero, dell'idea creativa degli architetti. Un momento straordinario, ogni anno mi sembra più bello, sono stato un po' in giro per la città durante il weekend per vedere le preparazioni. Il salone funziona sempre meglio perché è la città che partecipa e dai privati alle aziende agli operatori, non solamente nel campo del design, tutti fanno la loro parte. È un lavoro che serve a mostrare un prodotto, che sono questi pavimenti di legno fatti in Cina con legni che provengono principalmente dalla Malesia ma da altri paesi del sud-est asiatico. La materialità sono i materiali e l'immaterialità è il progetto. Un'installazione estremamente iconica, filo museale dove valorizzare delle placche per sanitari che divengono opere d'arte. Attuando uno schema che è proprio di tutti i miei lavori, lavorando per ibridazioni e per opposizione continue. Lavorando attraverso parametri connessi al mondo della sinestesia ho messo insieme storie di materia e di antimateria, di immaterialità. Abbiamo cercato di essere in dialogo tra i nostri obiettivi e la meravigliosa circolazione di questo storico, di questo rinascimento di rinascimento. Ma dall'altra parte, vogliamo parlare di una relazione tra l'immaterialità e la materialità, dove vedete la proporzione tra l'acqua e la stona, tra l'acqua e il concreto. Questo è il DNA per ogni città e questo DNA è molto unico. Questo è uno scalone che porta alloggiato dove sono esposte le fotografie che Ferragamo Parfum ha fatto realizzare per lanciare il suo ultimo nuovo prodotto. È uno scalone che non fa solamente da scala ma fa da tribune ed è infatti un posto dove sedersi e prendere il sole oppure guardare tutte le meraviglie che ci sono in questo già di per sé meraviglioso cortile. Grazie a tutti!